Oggi a Lo sai come? 2012. La fine del mondo? 2013. La fine del mondo 2 torna a far danni? Sabato 22 dicembre 2012. Sarà la fine del mondo? Dall'India al Sud America, dai Maya al Gobbo di Notre Dame. Tutti indicano una sola data, 20 dicembre 2012. Ma su quale base si porta avanti tale supposizione? E come è possibile che calendari diversi e popoli distanti Aya e Aya di anni concordino sulla stessa data? Secondo alcuni, il segreto è scritto in una pietra nascosta da secoli e secoli. Secondo il calendario Maya, l'attuale età dell'oro, iniziata nel 5000 liri a.C., finirà nel 2012, esattamente nel 2013, dopo la festa del tonno. Le precedenti quattro ere dell'acqua, aria, olio e aceto erano tutte caratterizzate da un'inversione del campo magnetico terrestre, con conseguenze disastrose. Come scritto sul libro, le lavatrici laveranno al contrario, Natale sarà a ferragosto, il mio albicocco non farà più albicocche. Ma cosa succederà esattamente nel 2012? Moriremo tutti? Un'invasione aliena? Cambio palla? Tante sono le profezie sulla fine del mondo, provenienti da diversi manoscritti. Una profezia Maya rivela nel 2012 il passaggio dalla tv analogica a quella digitale, vale a dire la perdita di una delle funzionalità basilari della tv, il cambio nanosecondario di canale. Ma perché proprio il 2012 e non il 1999? Per avere una risposta, dobbiamo recarci ai lidi di Pomposa, il sito Maya ancora abitato, dove è stata trovata di recente, su di una stele, la trascrizione che indica il 2012 come parte conclusiva del calendario. Le trascrizioni si basano sul fatto che il 21 dicembre 2012 è il giorno di solstizio d'inverno, e, non essendoci più le mezze stagioni, si sostiene una mancanza di spazio-tempo e conseguente inizio di un nuovo mondo. Per accedere al nuovo mondo prima del 2012, premere CTRL INVIO e digitare CLAPAUCIUS. Per trucchi, soluzioni e altro, non perderti in edicola LO SAI COME. MOLTIPLICAZIONI. VERO O FALSO. SCIMMIE. Eravamo così o lo siamo ancora? E in regalo il nuovo numero di Cucina Casalinga, oggi PRUGNA E ACETO.